Nasce l'idea dal fatto che noi utilizziamo come genere principale il swing e quindi amiamo molto questo genere, ci siamo avvalsi appunto di brani che hanno il sapore proprio dell'americano e in particolare l'americano in Europa è il primo brano che abbiamo seguito di Gershwin il titolo è appunto l'americano in Europa, derivato dall'americano a Parigi che non c'entra niente, però in realtà nasce da lì il genere che utilizziamo, Jets, non è, ma è swing swing è quindi tutta la parte dell'america centrale, new yorkese e in particolare i brani tipo New York, New York, brani di Frenzinatra, brani di altro genere e poi dell'america latina, quindi per Sprado, il Chachachà, il Mambo, la Rumba e in particolare poi abbiamo utilizzato alcuni brani che nascono nell'america latina come tango argentino, però noi abbiamo messo nel nostro repertoro i brani di Astro Piazzolla Noi siamo fondamentalmente sì una band, orchestra, ma siamo anche un'associazione l'associazione è fatta di persone, di persone che ci mettono il cuore e che comunque copre varie fasce d'età, abbiamo i piccolini, abbiamo i ragazzi, abbiamo gli adulti e abbiamo i diversamente giovani e questo però comunque non, queste differenze di età non sono degli ostacoli per noi, sono sempre delle risorse e la musica ci aiuta comunque ad accomunarci tutti, proprio per questo pensiamo che la musica sia fondamentale sia importante per un percorso di crescita sano e anche dal punto di vista relazionale a questo motivo proprio volevo aggiungere che i nostri corsi di musica sono sempre aperti tutto l'anno